Dotare il Comune di Sala Consilina di un regolamento per la tutela degli animali vaganti e padronali è quanto chiede l'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali di Salerno e Provincia attraverso una nota protocollata presso gli uffici comunali a firma della referente per il Vallo di Diano Enrica Ferricelli lo scorso 17 giugno. L'iniziativa arriva a seguito anche dei numerosi casi di maltrattamento di randaggi che si sono verificati sul territorio partendo dal caso di Gaia che è stata crudelmente presa a fucilate da Balordi lasciando l'agonizzante in strada e salva solo grazie alle amorevoli cure dei membri dell'OIPA con uno dei soci che ha deciso di adottarle e continua a prendersene cura. Al caso di Gaia purtroppo negli ultimi giorni se ne sono aggiunti altri come il ferimento di Galileo e nei giorni scorsi il tentato avvelenamento di Jack salvato grazie al pronto intervento di Giovanni Rega che con l'aiuto e le cure della dottoressa Doris Salluzzi sono riusciti a salvargli la vita ed ora sta bene. Non sono solo i casi di violenza sugli animali però a spingere l'OIPA e chiedere l'adozione di un regolamento comunale. Infatti Enrica Ferricelli e Maria Antonietta Di Gregorio chiedono che il comune di Sala Consilinea si adegui alla legge regionale approvata lo scorso aprile su disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto e il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randaggismo anche per ciò che riguarda appunto il comportamento da tenere da parte dei cittadini padroni di animali d'affezione. A quasi un anno dall'apertura della sede OIPA a Sala Consilina scrivono riceviamo di continuo segnalazioni e richieste di aiuto e nonostante ci siamo attivate da subito con adozioni e comprovviste di alimenti medicinali ed altro sappiamo che non possiamo colmare da sole una problematica di così grandi dimensioni e che riguarda l'intera comunità oggigiorno sempre più preoccupata delle sorti dei poveri randaggi lasciati in balia di scellerati è giunto il momento, continuano, che comune, asle e associazioni si uniscano per mettere un freno all'ignoranza all'incuria e al menefreghismo di quella cerchia di persone che nel 2019 ancora non sa che maltrattare, torturare o uccidere un animale costituisca reato o ancora che poco decoroso oltre che sanzionabile il non raccogliere le deiezioni canine lasciate dai propri animali lungo le strade cittadine sono compiaciuta che nel mio comune ci sia buona attenzione alla problematica randaggi tuttavia, dichiara in conclusione Enrica Ferricelli sono convinta ma anche ancora un tassello fondamentale una regolamentazione esaustiva per tutti gli animali presenti sul territorio e non solo siamo pronti a confrontarci per trovare le soluzioni migliori per animali e persone per una serena convivenza